Buonasera, ben trovati, siamo a Dobbiaco, ci troviamo in compagnia di Enrico Comini, che è il proprietario dell'Hotel Union. Buonasera Enrico. Buonasera Alberto, buonasera. Allora, l'estate è iniziata da circa due mesi, la stagione estiva, dopo questo lockdown lungo di tre mesi, adesso siamo quasi al termine della stagione, quali sono le sensazioni, come è andata soprattutto la stagione? Allora, noi Roberto, ti spiego brevemente come abbiamo trascorso la stagione estiva, noi abbiamo aperto il 27 di giugno, abbiamo aperto con pochissimi ospiti, di giorno in giorno abbiamo avuto sempre più prenotazioni, grazie anche al mercato italiano che ci ha dato molta fiducia, siamo arrivati praticamente verso il 18 di luglio ad avere l'Hotel Pieno fino a domenica, adesso siamo con un'occupazione del 50% più o meno e andiamo a sfumare verso fine stagione. Sono stati due mesi molto buoni, grazie molto agli italiani che sono venuti a trovarci, sono rimasti molti più italiani che non conoscevano la montagna e hanno apprezzato la nostra valle, il nostro paese e il nostro hotel. Per quanto riguarda i turisti stranieri quest'anno? Abbiamo avuto un calo molto forte del mercato tedesco, abbiamo una leggera ripresa adesso in settembre e noi chiudiamo l'hotel verso il 20 di ottobre. 20 di ottobre, per cui c'è ancora il tempo per poter venire, le giornate sono stupende, c'è poca gente e di conseguenza c'è la possibilità, grazie ai grandi spazi che il territorio offre, di poter andare a fare le escursioni, a vedere quelle che sono le caratteristiche del territorio, qual è il lago di Dobbiaco, le tre cime qui vicino, si può andare anche nella vicina Cortina, per cui sono 30 km, di conseguenza si fa molto presto. Ti ricordo che noi avendo la mobilità molto sostenibile con il treno ci si può muovere di paese in paese lasciando comodamente la macchina in garage. Benissimo, chi desidera poi arrivare non in auto, qui c'è la stazione vicina, sono 100 metri e di conseguenza può tranquillamente arrivare in treno e venire a piedi direttamente in hotel. Per quanto riguarda invece l'apertura della stagione invernale? Sì, noi abbiamo in programma di aprire il 5 di dicembre e poi di arrivare a fine marzo, covid permettendo. Per quanto riguarda i mercatini di Natale, che l'anno scorso hanno ottenuto un grandissimo successo. I mercatini di Natale di Dobbiaco, seconda edizione, è già stata confermata, siamo contenti e ci aspettiamo tanti ospiti e tanti visitatori. Benissimo, allora vogliamo invitare i turisti che sono a casa e ci guardano a venire qui a Dobbiaco, all'Hotel Union, vogliamo dare il sito internet per poter vedere? www.hotelunion.it oppure ci mandate nei mail a info.hotelunion.it o ci telefonate allo 0474 970 100. Vi aspettiamo qui numerosi vacanze a Dobbiaco. Benissimo, buona serata a tutti. Buona serata.